buongiorno a tutti in una giornata come questa ovvero nel venerdì santo non potevamo non parlare del compianto sul cristo morto di niccolò dell'arca le marie intorno sembrano infuriate dal dolore dolore furiale una verso il capo a sinistra tende la mano aperta come per non vedere il volto del cadavere il grigio il pianto e il singulto contraggono il suo viso corrugano la sua fronte il suo mento la sua gola l'altra con le mani tessute insieme con i cubiti in fuori ammantata piange disperatamente l'altra tiene le mani sulle cosce col ventre in dentro e ulula queste sono le parole di gabriele d'annunzio risalenti al 1906 quando a bologna vede per l'appunto della chiesa di santa maria della vita il capolavoro di niccolò dell'arca l'opera probabilmente è stata realizzata tra il 1463 il 1490 e rappresenta il compianto per l'appunto sul corpo di cristo da parte di quelli che sono i personaggi tradizionali che raffigurano questo particolare episodio della vita di cristo ma il vero protagonista di quest'opera è la drammaticità che emerge soprattutto dai volti delle donne che assistono alla scena l'opera fu spostata diverse volte anche perché in passato non venne molto apprezzata soprattutto per questa drammaticità che in alcuni casi fu definita quasi grottesca oggi possiamo ammirarla in quella che la ricostruzione effettuata da nel 1922 da alfonso rubiani e che sembra essere la più accreditata l'azione si svolge intorno al corpo di cristo che non è un cristo appollineo come quello che siamo abituati a vedere nel corso del 400 ma anzi è un cristo che è sopraffatto dal dolore è un cristo che potremmo definire pazienza quindi che sta soffrendo le pene della crocifissione intorno al corpo di cristo troviamo nicodemo che è l'unico vestito in abiti rinascimentali e poi troviamo san giovanni ovvero l'apostolo tanto amato da gesù cristo che si trova al centro della composizione san giovanni è caratterizzato da un contegno che però non lo porta a trattenere le lacrime ma anzi sembra avere quella disperazione però contenuta che invece non ritroviamo per esempio nella rappresentazione di maria la madre di gesù che con le mani giunte quasi di fronte al volto esprime totalmente la disperazione di una madre che appena perso il proprio figlio accanto a lei maria salome che è quella che probabilmente tra le donne presenta un contegno maggiore che fa delle smorfie quasi a dover mantenere quell'equilibrio posturale che la posizione in cui nicolò dell'arca la rappresenta sembra quasi non avere ma arriviamo ora le due protagoniste vere di questo gruppo che probabilmente sono le ultime due statue che vengono rappresentate quindi risalenti intorno al 1490 la prima è maria di cleofa la quale viene rappresentata in un senso di orrore in una postura che mette le mani al centro tra il proprio viso e il viso di cristo quasi a voler allontanare quel grande senso di orrore che invece la scena sembra presentarle e per ultima maria maddalena la quale viene rappresentata con il volto che sta emettendo un enorme grido di dolore quasi ad assordire tutti gli astanti tutte le persone che sono lì presenti ma non solo nel gruppo scultorio ma anche chi sta guardando l'opera stessa quello che ci colpisce di maria maddalena è il fatto che sembra essere giunta lì correndo appena presa la notizia per l'appunto e questa corsa viene rappresentata da queste vesti in movimento come se la figura fosse colpita da un soffio di vento impetuoso che sembra già per annunciare di circa due secoli quello che saranno quelle che saranno le soluzioni di bernini e del barocco romano niccolo dell'arca era di origine pugliese e probabilmente è stata proprio questa la spinta che ha portato l'autore a rappresentare questo enorme dolore un dolore che potremmo anche ipotizzare provenire dalla conoscenza delle prefiche ovvero queste donne che venivano pagate durante i funerali per piangere e disperarsi è innegabile comunque che quasi dopo 600 anni questo gruppo sia ancora capace di impressionare così tanto gli spettatori che sono davanti io vi ringrazio vi saluto e alla prossima puntata ciao Grazie a tutti.